Gennaio 2021 Una strana creatura è stata rinvenuta in una spiaggia sulla costa britannica da alcuni agenti di polizia di Ottery St. Mary, che dopo averla fotografata hanno postato lo scatto su Twitter descrivendo l'essere come «mostro». Dall'aspetto, l'animale marino si potrebbe ricollegare al grongo, pesce osseo anguilliforme che spesso viene pescato lungo le coste atlantiche europee e nordamericane. Delle loro abitudini sappiamo poco niente, ma dalla foto possiamo ben vedere che l'animale è lungo più di un metro. La cosa strana è che la scoperta di questa creatura arriva dopo quella di un delfino, risalente al 20 dicembre, e a quella di una bara, su cui erano riportate incisioni in arabo. È stata una cosa strana da vedere e devo ammettere che abbiamo dato un'occhiata in giro nel caso il corpo fosse rimasto nelle vicinanze, ma non siamo riusciti a trovare nient'altro. Grazie a tutti! Grazie a tutti!